fucile fn scar l soft tire a molla istruzioni caricatore e fucile sicura sicura e colpo maniglione anteriore rail per montare ottiche torce laser di oltre di mira abbattibili ribaltabili calcio sganciabile e allungabile tramite questo pulsante si risgancia e si riabbatte lateralmente per allungarlo si preme quest'altro pulsante utilizzandolo in varie posizioni il colpo viene caricato azionando questa leva di armamento e viene caricato colpo colpo ottime rifiniture loghi come l'originale interamente in tecnopolimero antiurto grazie a tutti grazie a tutti